Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa tredicesima puntata del podcast di Marcosbox. Puntata davvero molto breve questa settimana perché è un po' complice il fatto che sono state le seste di mezzo, complice anche il fatto che non sono state date tante notizie interessanti al mondo del software libero open source, complice il fatto che il 24 mi sono dovuto andare a tirare un dente del giudizio che mi causava dolore da diverso tempo, quindi non ho avuto molto tempo da stare lì a dedicare un blog per cercare notizie ma anche per fare video e quant'altro, quindi mi scuso per questa settimana molto scarsa dal punto di vista del blog. Cominciamo comunque con la prima notizia, cominciamo con il parere di SuperTruxCart, è stata rilasciata la versione 1.0 di SuperTruxCart, il famoso gioco open source e multiplattaforma disponibile per Windows, macOS, Linux e Android, che si ispira a Mario Kart e che ha come protagonisti personaggi ispirati al mondo del software libero open source. Vi trovate, che ne so, il Tux di Linux, lo new di GNU, quell'altro corso che non ho mai capito che è la mascotte di Gimp e quant'altro. Oltre alle varie modifiche che sono state fatte, alcuni tracciati, correzioni di bug e quant'altro, la novità principale di questo rilascio è l'aggiunta del supporto al gaming tramite rete locale e internet. Su Marcosbox trovate i link per poter scaricare la versione per Windows, macOS e Linux. Se invece siete su Android vi basterà a cercare sul pre-store SuperTruxCart. Vi consiglio comunque di scaricare questo gioco perché è davvero divertentissimo, c'è mio nipote che l'adora. Anche perché oltre alla modalità classica, quella di gare alla Mario Kart, ci sono altre modalità tipo, che ne so, quella alla Rocket League, se fate la partita, la partita, diciamo così, di calcio alla Rocket League con gli automobili, è davvero divertente, davvero. Fidatevi, se non ci avete mai giocato, occorrete subito a rimediare. Passiamo adesso al mondo delle notizie, dalle distribuzioni. Il Fermilab ha deciso di smettere di sviluppare Scientific Linux e di migrare a CentOS. Il Fermilab sviluppava da qualche tempo, da diverso tempo, una distribuzione specifica che veniva utilizzata nei propri lavoratori, compatibile con RPM, quindi totalmente compatibile con RPM. Adesso il Fermilab ha deciso di smettere di sviluppare questa sua versione di Linux, Scientific Linux, e di migrare a CentOS. Quindi Scientific Linux 8 non verrà più rilasciata, il rilascio è stato cancellato, i laboratori del Fermilab e del CERN migreranno a CentOS 8 per i propri ambienti di elaborazione scientifica. Questo consentirà anche, diciamo così, di migliorare la collaborazione internazionale con gli altri team di sviluppo sparsi nel mondo che già utilizzano CentOS. Diciamo così, è una scelta a mio avviso molto sensata, inutile stare lì a continuare a reinventare la ruota quando c'è già un'alternativa che viene utilizzata anche da altri, che quindi è, diciamo così, uno standard di fatto. Comunque, se chi utilizza Scientific Linux 6 e 7 non rimarrà scoperto per quanto riguarda gli aggiornamenti, perché verranno comunque supportate fino alla fine dei rispettivi cicli di vita. Passiamo alla notizia più su cosa di questa settimana, il rilascio di D-PIN 15.10. D-PIN, che cos'è? La famosa distribuzione cinese, spesso molto contestata per quando riguarda alcuni problemi connessi alla sicurezza e quant'altro, problemi presunti, perché poi alla fine è stato dimostrato che non erano problemi reali, cioè nel senso non venivano, non eravate spiati se utilizzavate questa distribuzione, che che ne diceva qualche utente facendo video sensazionalistici su web. Comunque, questa nuova versione adesso è basata su Debian Stable, questo consentirà agli utenti di avere ragionamenti, diciamo così, tempestivi, una migliore stabilità del sistema. Oltre a questo risolve anche la mia critica, quella che fece in passato su D-PIN. In passato fece una critica per quanto riguarda il fatto che non veniva, diciamo così, garantita o il supporto agli ultimi rilasci di Firefox, perché l'ultima rilasci era stata complicata al momento del rilascio della precedente versione di D-PIN e Firefox era stato rilasciato così abbandonato, quindi non veniva aggiornato. Adesso, col passaggio a Debian Stable, viene utilizzata la versione ESR di Firefox, che è quella che viene utilizzata su Debian Stable, quindi non, diciamo così, stiamo coperti anche da quel punto di vista. Se invece volete utilizzare l'ultima rilasci, quella non ESR, in giro su internet trovate varie guide su come utilizzare questa, la versione, diciamo, corrente di Firefox su Debian Stable, quindi cercate Debian Stable Firefox, ultima versione, andate via a cercare un po' di guida. Magari in settimana, se riesco a trovare il tempo, farò anche una guida dedicata a questo. Altra grande novità è che la versione 15.10 di D-PIN utilizza K-Win come Windows Manager di default. Questo consentirà di avere un minor consumo di memoria e performance migliori. Novità di questo rilascio è anche la presenza di una nuova funzione di unione automatica dei file su Dexol. Questa è una funzionalità che si ispira a quella già presente su MacOS, sull'ultima release. Che cosa consente di fare? mettiamo in caso che avete anche, ne so, una decina, una ventina di file sparsi su Dexol, tra MP3, video, documenti e quant'altro, già avete tutti quanti sparsi, volete fare ordine, cliccate su questa funzionalità, attivate questo flag e tutti quanti i file verranno raggruppati per tipologia. Quindi avete una cartella foto, una documenti, una video, una musica con gli altri file, quelli generici. E quindi avete, diciamo così, messo ordine in un solo clic sul vostro Dexol. È davvero molto bello e interessante per chi utilizza, cioè meglio, per chi fa un uso sconsiderato della cartella Dexol. Altra novità di questa versione è che è possibile selezionare una serie di sfondi e utilizzare come sfondi del sistema, creando una slideshow che possiamo personalizzare con il parametro temporale, come meglio ci aggrada. Sono state aggiornate le varie applicazioni che compongono la suite di Dexol, è stato aggiornato WPS Office, che adesso è la versione 2019, ultima reghesi di WPS Office, la suite d'ufficio sviluppata appunto da WPS. È stato poi aggiunto una possibilità di disattivare o attivare singolarmente i parchi suoni di sistema ed è stato migliorato il file manager con una nuova address bar con funzionalità di autocompletamento, copia percorso, modifiche e quant'altro. Se volete provare D-Pin e volete scaricarla, vi consiglio di scaricare la versione, cioè dal mirror, diciamo così, quello di Mega, che è quello più veloce. Non scaricatela dal mirror principale di D-Pin perché è un mirror cinese e ci mettete i secoli per poterla scaricare. Mentre dal link che trovate su quello di Mega potete sfruttare al massimo la vostra banda e quindi scaricarla in pochissimo tempo. Cioè, pochissimo tempo, oddio, sono pure due giga otto, quindi dipende sempre dalla vostra connessione. Bene, con questa notizia ho concluso, lunga vita e prosperità, ci rivediamo la prossima settimana sperando di avere molte più notizie, poi commentare con voi, sperando di avere anche aggiornamenti per quanto riguarda i mirror Xiaomi Mi A2 Lite, di cui vi ho parlato nelle scorse settimane, di cui attualmente si sono perse le tracce. Ho provato anche a contattare Xiaomi sia telefonicamente che tramite mail. Mi hanno risposto alla mail dopo diverso tempo e mi hanno detto che avrebbero fatto una segnalazione per rendere più celere la riparazione, però appunto ancora non si sa nulla e speriamo appunto di avere buone notizie la prossima settimana, sperando che si diano una mossa. Vabbè, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci vediamo la prossima settimana e ciao ciao!